Buon lunedì pomeriggio, buona settimana e ben ritrovati a Linea Attualità, il nostro programma di approfondimento quotidiano che anticipa la fascia serale dei nostri telegiornali, ve le ricordo come di consueto, puntualissimi alle 19, alle 20, alle 23, l'edizione dedicata a Milano e a Milano Sud, alle 19 e 30, 20 e 30, 23 e 30, l'edizione dedicata invece a Pavia e Provincia. Siamo nella settimana di Natale, tante le novità, parleremo infatti con i nostri ospiti delle restrizioni del governo in merito alle prossime festività natalizie, ma soprattutto alle tante ripercussioni che avranno sul profilo non solo personale, ma anche sotto il profilo economico e sociale. Poi cercheremo di fare un po' il punto anche sulla situazione in merito all'alluvione dell'ottobre scorso, perché ci sono importanti novità da Regione Lombardia in merito appunto a quella catastrofe che ha colpito prevalentemente i comuni lomellini che si affacciano verso la zona piemontese. Poi ovviamente parleremo anche di altro, di economia, parleremo di come questo paese sta reagendo alla pandemia, ci sono importanti novità in merito ai vaccini, perché inevitabilmente l'Europa ha dato il via libera, le prime vaccinazioni si paventa, insomma così stavo guardando poco prima di andare in diretta sui principali quotidiani online che in Italia si potrebbe già partire il 24 di dicembre con le primissime primissime dosi. Oggi è proprio anche il giorno di alcuni importanti riconoscimenti, sto guardando appunto Lombardia Notizie, il presidente Attilio Fontana ha consegnato il premio Rosa Camuna, il più alto riconoscimento della Regione Lombardia, alla dottoressa Annalisa Malara, medico anestesista che a Codogno scoprì il cosiddetto paziente 1 permettendo di individuare la presenza del Covid-19 in Italia. Altro premio, altra Rosa Camuna, è stata poi data anche la dottoressa Laura Ricevuti che ovviamente per motivi di carattere lavorativo non era presente all'importante cerimonia che abbiamo seguito anche noi di Milano Pavia News e che troverete ampio resoconto nel corso dei nostri notiziari. Allora invece vado subito a presentarvi gli ospiti di questa sera che sono Stefano Tonetti, sindaco di Candia Lomelina che saluto e ringrazio. Buonasera. Sindaco, mentre in collegamento Skype abbiamo invece Milena D'Imperio del Partito Democratico. Ben ritrovata D'Imperio, buonasera. Buonasera. Buonasera Stefano, buonasera a tutti. Grazie mille. Sindaco, parto da lei con la notizia che dicevo insomma del fatto che Regione Lombardia ha fortunatamente chiesto lo stato di calamità in merito a quella drammatica alluvione che ha colpito il suo paese e altri due o tre centri limitrofi, quei paesi un po' dell'Omelina orientale che guardano la zona di Casale, colpiti a ottobre da quella pesante alluvione che ha messo in ginocchio gran parte del paese, molti imprenditori agricoli. Ecco facciamo un po' il punto della situazione partendo appunto dalla notizia sindaco che Regione Lombardia ha garantito, ha chiesto lo stato di calamità. Sì, forse faccio un passo indietro e dico appunto due parole sull'evento perché il 3 ottobre questo evento è assolutamente eccezionale. Io ho una discreta esperienza sul decorso delle piene del fiume Sesia, un po' perché le ho vissute, un po' perché mi sono documentato fino addirittura andando ai primi secoli in cui venivano queste documentate e nella quella che è la tavola puntingeriana e lì si può vedere cosa il Sesia fece nei primi secoli in cui i romani si occuparono di questo argomento. Il Sesia è un fiume a carattere torrentizio, una forza di questa entità io non l'avevo mai vista. In due ore è salito di ben tre metri in altezza inondando delle zone che prima non erano mai state inondate. Noi eravamo sulla provinciale, la 596 che è quella che poi è stata spazzata via, letteralmente spazzata via dalla furia dell'acqua. Qui ringrazio il Presidente Poma e tutto il Consiglio provinciale che si sono adoperati tempestivamente per il ripristino. Sapete che la 596 è l'arteria che ci collega con Casale Monferrato, città nella quale Candia fa riferimento e abbiamo avuto in tempi rapidissimi la ricostruzione di questa strada. La collaborazione che c'è stata con la provincia di Alessandria, quindi le due province hanno collaborato in maniera molto stretta, io con il Sindaco e l'amministrazione di Casale Monferrato, siamo riusciti in tempi veramente molto rapidi a riottenere la viabilità. Ma tornando all'evento in sé, un evento che ha causato dei danni elevatissimi all'agricoltura in primis, ma a Candia ci sono parecchie attività che hanno subito dei danni. Proprio a livello di dove c'è stato questo smottamento e questa erosione della provinciale, sorge un importante ristorante, il ristorante Pontesesia. Questo ristorante ha avuto dei danni che sono di parecchie centinaia di migliaia di euro, tutti documentati, sempre in quella zona abbiamo anche un'azienda di trasformazione di ghiaia in calcestruzzo e in altri materiali edili, anche questo ha avuto dei danni di un'entità di diverse centinaia di migliaia di euro e anche un elevamento di galline ovaiole, 40.000 ovaiole che è andato sott'acqua. Questo per dire le attività principali solo del comune di Candia. Solo nel suo paese, poi ovviamente ci sono gli altri paesi colpiti pesantemente. Ecco, cosa significa per voi il fatto che Regione Lombardia abbia chiesto lo stato di calamità, possibilità di ottenere dei fondi? Innanzitutto i tempi sembrerebbero lunghi, in realtà sono tempi tecnici che non potevano essere altrimenti perché sono state chiuse, l'ultima ricognizione proprio dei danni solamente una decina di giorni fa, per cui tempo tecnico di raccogliere le ultime notizie e con l'assemblamento dei dati in possesso di Regione hanno formulato quella che è la richiesta, mi sembra di circa 13, poco più che di 13 milioni di euro per quanto riguarda la calamità naturale. Ci sono proprio aziende che adesso qualcuna ha già iniziato a ristabilire i danni, ma altri stanno aspettando proprio eventuali fondi per poter ripartire in pienezza, proprio perché sono danni, come abbiamo già detto prima, di notevole entità. Ecco, Milena d'Imperio, vengo da lei, cambiamo un attimo argomento, poi magari ci ritorniamo su questa notizia con il sindaco Tonetti, ma volevo parlare con lei invece dell'attualità più spicciola, il discorso delle chiusure natalizie, insomma una situazione che inevitabilmente decisioni del governo che molti si aspettavano, tanti altri invece avrebbero proferito altre soluzioni, magari un po' più morbide, lei come la vede questa situazione? Innanzitutto volevo esprimere la mia solidarietà al sindaco Tonetti e a tutti i cittadini di Candia e di quell'area. Mi ha fatto piacere nella drammaticità della situazione sentire che la provincia, che è un ente come voi sapete a cui io sono comunque affezionata, è stata attiva in tempi rapidi, non avevo dubbi, sono lieta che Regione Lombardia abbia messo a disposizione questi fondi, credo che il sindaco e tutti i cittadini si auspichino anche insieme ai fondi che ci sia proprio finalmente un progetto. Abbiamo qualche, ecco perfetto. Ecco, revisione strutturale di quell'area che ha bisogno di interventi insomma da molto tempo. Cambiando discorso queste chiusure a singhiozzo hanno un po' preso insomma tutti quanti alla sprovvista. Io lavoro con colleghi francesi, inglesi e tedeschi e che effettivamente hanno, sono in lockdown, lo sono già da oggi, i negozi sono chiusi, sicuramente misure più dolorose e drastiche ma più chiare. Probabilmente nel tentativo di fare sintesi tra varie anime, varie necessità è un po' uscito questo lockdown a singhiozzo che cercheremo il più possibile di seguire per tutelare la salute nostra e di tutti quanti. Ecco, d'Imperio ci sono state parecchie polemiche su queste decisioni del governo ma soprattutto perché per come sono state prese in questi mesi? Lei è d'accordo oppure insomma non si poteva fare altrimenti? Ma guardi io parto da un dato, a me piacciono i numeri e ancora oggi si parla di 453 morti ed è un numero che comunque resta molto preoccupante e molto alto e di conseguenza non possiamo pensare di continuare in questo modo. Nei mesi scorsi credo che il tentativo a volte diciamo non ben comunicato e non ben pensato però è sempre stato quello di tutelare la salute dei cittadini e non solo, anche di tutelare la salute di coloro che pensano alla salute dei cittadini quindi non dobbiamo pensare che medici e infermieri siano delle macchine che possano fare turni massacranti per mesi e mesi Abbiamo qualche piccolo problema tecnico, ecco prego prego un po' la connessione ma non c'è problema è il bello della diretta d'Imperio Certo, certo, no no ma non ci sono problemi, no stavo dicendo che dobbiamo avere rispetto anche per queste persone che si preoccupano della nostra salute e dobbiamo fare in modo che il loro lavoro torni ad avere tempi e metodi standard Non possiamo pensare che vivano persone e famiglie in totale emergenza perché qualcuno pensa che sia il caso di andare in giro ancora adesso senza mascherina o che magari qualche negozio debba essere aperto per qualche sollazio individuale Certo, è stata chiarissima Tonetti, ritorniamo un attimo a parlare e poi magari affronteremo anche noi insieme a lei questa tematica di livello nazionale Torniamo a parlare invece della situazione della vostra zona è stato chiesto lo stato di calamità da parte di Regione Lombardia dopo l'alluvione di inizio ottobre Questo stato di calamità era teso dai cittadini ma soprattutto anche dagli imprenditori, dagli aziende, insomma in piccoli paesi avete fatto anche delle importanti incontri anche recentemente con la provincia, con il comune di Langosco Insomma tutta questa zona che è stata colpita pesantemente dall'alluvione del Sesia perché questi aiuti sono davvero sentiti Sì, ma allora nello specifico il comune di Langosco che è il comune confinante con Cagnolo Mellina è il comune che ha avuto l'appeggio dal punto di vista soprattutto delle abitazioni private oltre che di aziende, aziende agricole che sono state letteralmente inondate dall'acqua peraltro per uno strano scherzo del fiume Sesia che in località Rivoltella, frazione di Rosasco è riuscito ad invadere il letto del roggione di Sartirana che è una grossa roggia che porta l'acqua di irrigazione per le risaie in tutta la Lomellina e facendo questo ha inondato proprio l'abitato di Langosco circa metà dell'abitato di Langosco è finito sott'acqua creando veramente dei disagi notevoli anche la piccola casa di riposo di Langosco è stata sgomberata sono intervenuti dai vigili del fuoco alla protezione civile ha veramente molte entità per aiutare in quel fragente la popolazione di questo piccolo paese che era letteralmente in ginocchio queste persone credo che abbiano diritto a un risarcimento proprio perché l'entità di questa calamità non lascia ad avere delle soddisfazioni che sono solamente di tipo naturale ma proprio perché l'acqua è stata portata da una roggia artificiale e quindi in questo senso credo che si possa pensare di avere un risarcimento un giusto risarcimento Allora Sindaco, ritorniamo a parlare invece un po' della situazione generale abbiamo sentito quanto ha detto l'esponente del Partito Democratico Milena d'Imperio insomma va bene nel senso tutelare l'aspetto economico ma però prima di tutto se non sbaglio ha detto bisogna anche tutelare la salute Sì, io sono pienamente d'accordo sono pienamente d'accordo con la dottoressa Milena d'Imperio perché prima di tutto è importante la salute importante la salute e anche coloro che effettivamente in questo momento sono i nostri custodi della salute medici, infermieri che sono in prima linea direi che la situazione talmente drammatica i morti che nonostante siano calati ma restano sempre a tre cifre sono di una preoccupazione enorme credo che tutti gli sforzi da mettere in campo devono essere usati credo che le regole debbano essere rispettate credo però che l'equità nel poterle far eseguire sia più doverosa perché in queste regole c'è una disequità abbastanza forte fra grossi centri e piccoli centri in comuni come il mio, come Candia, dicevo prima come Langosco, piccoli centri quando ti vedi una limitazione a non uscire dal comune è una limitazione enorme perché uscire dal comune di Pavia o di Vigevano quasi non è percettibile per chi deve fare una vita normale invece per quanto riguarda un abitante di Candia, di Langosco, di Cozzo di uno dei piccoli paesi che stanno nella Lomellina è enorme tanto più che noi siamo comuni come diceva già prima lei direttore che sono rivieraschi perché Candia confina sia con la provincia di Alessandria quindi Casale Monferrato sia con la provincia di Vercelli con Motta dei Conti quindi abbiamo anche parecchie interconnessioni sia con Vercelli sia con Casale e il non poter uscire dal comune o dalla provincia quando si passa in zona arancione è una problematica enorme perché noi essendo sul confine e faccio solamente un paragone siamo a 12 chilometri da Casale Monferrato e 20 da Mortara che sono le due città più importanti D'Imperio ha sentito un po' lo sfogo diciamo così del sindaco Tonetti è un po' la discussione di queste settimane quella appunto degli spostamenti soprattutto per chi vive qui abbiamo un rappresentante di amministrazione per chi vive in quei comuni piccoli o addirittura al confine con altre regioni perché inevitabilmente quanti cittadini di Candia si spostano semplicemente anche per fare la spesa a Casale Monferrato nei centri commerciali di Casale Monferrato o per altre esigenze magari un po' più futili però comunque fondamentali ecco il governo secondo lei ha gestito in modo oculato queste richieste perché inevitabilmente ogni paese avrà la sua richiesta però l'ha gestita con una linea comunque operativa generale consona oppure come tanti soprattutto l'opposizione si è espressa l'ha gestita un po' alla carlona come si suol dire utilizzando un termine un po' dialettale della nostra zona si si molto molto alla carlona però ecco dobbiamo sempre pensare che chi governa e chi governa una nazione deve poi cercare di fare sintesi tra decine e decine di posizioni io stessa vivo in un comune che ha meno di 5.000 abitanti confina con Pavia ma per la nuova normativa io non posso andare a Pavia dove ovviamente ci sono la maggior parte delle attività economico sociali per cui insomma il disagio è sicuramente vissuto si poteva fare qualcosa di più chiaro e di adatto al nostro territorio che soprattutto in Lombardia è costituito da molti comuni piccoli quindi sì sicuramente lo sentiamo mi sentite adesso? adesso sì perfetto perfetto quindi si poteva pensare a un raggio di chilometraggio si poteva pensare ripeto a un periodo di lockdown con uscite solo per motivi fondamentali e la situazione sarebbe stata più semplice da gestire e più accettabile ora cerchiamo di affrontare la questione con buon senso e seguendo le regole quindi insomma secondo lei è mancato un po' anche di chiarezza da parte di chi ha gestito queste chiusure questo stop nazionale? secondo me sono state ascoltate troppe voci che si sovrapponevano e troppi interessi alla fine tra di loro anche difficili da coniugare e bisognava secondo me seguire abbiamo forse ancora qualche... bene insomma abbiamo capito comunque il succo del discorso certo di Imperio allora Tonetti vengo da lei proprio in merito a quanto sta dicendo adesso Milena di Imperio del Partito Democratico si sono sentite troppe voci secondo lei bastava forse una voce centralizzata che è quella poi degli esperti perché poi qui inutile girarci attorno chi deve decidere sono gli esperti devono capire se la situazione è esplosiva oppure si può limitare ma allora io direi che bisognava semplicemente prendere la regola del minimo comune al denominatore effettivamente come dice l'Imperio bisognava fare un lockdown appunto e basta perché quando non si possono fare ulteriori deroghe bisogna arrivare al massimo e solo in questo modo se tutti siamo trattati nello stesso modo a quel punto tutti siamo tenuti consapevolmente a rispettare le regole ma quando cominciano a esserci delle deroghe il comune più grande il comune più piccolo la regione non la regione il confine non il confine si cade in una trappola per la quale è difficile poi riuscire ad uscire riuscire a trovare una sintesi un po' le regioni ad aver chiesto queste deroghe tra virgolette principalmente forse perché sono anche coloro che poi hanno a che fare con i sindaci dei piccoli comuni che hanno delle esigenze diverse rispetto ai grandi centri metropolitani però ancora una volta c'è stato questo conflitto tra potere centrale quindi governo e regioni nella risoluzione di problematiche l'ennesima problematica di questo covid-19 insomma un conflitto che c'è sin dal primo stante della pandemia Mi sentite? Sì, adesso sì 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 di imperio Perfetto, perfetto ma guardi io vorrei spondare una porta semi aperta perché poi alla fine si danno troppi Proviamo Perfetto, proviamo Secondo me ci sono stati anche come dire gruppi di pressione sulla politica al punto insomma che la politica ne ha dovuto tenere conto Beh, parlo insomma ad esempio della posizione di Confindustria che fin dall'inizio della pandemia credo che sia stata come dire non proprio a tutela della salute in modo principale ma ha continuamente rimarcato il tema economico che sì è importante I ristori non sono mai stati abbastanza gli altri danno dieci volte di più rispetto a quello che viene dato in Italia che è una cosa non vera perché insomma molti di noi lavorano anche con l'estero ecco credo ripeto non voglio fare distinzioni tra politica regionale e politica governativa credo però che ognuno di noi deve fare la propria parte e non abbiamo qualche piccola interruzione per la vediamo un attimo magari di ripristinare il collegamento vado in pausa pubblicità per qualche istante poi ritorniamo in studio e continuiamo ad approfondire questo tema anche con il sindaco Tonetti rieccoci nuovamente in diretta con Linea Attualità abbiamo in studio il sindaco di Candialo Melina Stefano Tonetti in collegamento Skype abbiamo invece Milena d'Imperio del Partito Democratico stavamo facendo un po' il punto della situazione in merito alle future limitazioni imposte dal governo per le festività natalizie ma prima di ritornare a parlare con i nostri ospiti andiamo a vedere il bollettino di oggi relativo ai contagi Regione Lombardia che ci dice che a fronte di 10.587 tamponi effettuati ci sono 950 nuovi casi continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva meno 22 nei reparti ordinari meno 109 salgono ancora i decessi più 41 per un totale di 24.420 decessi da inizio pandemia interessante il dato invece percentuale dei positivi sui tamponi effettuati si attesta all'8,9% quindi molto stabile rispetto anche agli altri giorni c'è un piccolo sali e scendi nell'ultima settimana ma il trend è comunque costante andiamo a vedere l'incremento casi per provincia ci focalizziamo sull'Interland di Milano che fa segnare più 426 nuovi casi di cui 173 registrati a Milano città mentre il dato di Pavia è più 35 nuovi contagi come potete ben vedere sul totale di 950 nuovi positivi più della metà sono a Milano e nell'Interland milanese dando una scorsa ai dati anche delle altre province andiamo a vedere la situazione in Italia la prendiamo da Repubblica Online ci dice che a fronte di 87.889 tamponi i nuovi positivi di oggi sono 10.872 le vittime delle ultime 24 ore sono 415 ci interessa andare a leggere il dato calano i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore 87.889 come dicevamo rispetto ai 137.000 di ieri risale il tasso di positività a livello nazionale che si attesta al 12,3% più 1,3% rispetto a domenica quindi la situazione nazionale un po' in controtendenza rispetto a quella relativa alla Lombardia sono 2731 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia 12 in meno ieri nel saldo tra ingressi e uscite secondo il Ministero della Salute gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 161 nei riparti ordinari sono invece ricoverate 25.145 persone con un calo rispetto a ieri di 13 pazienti questi erano i dati nazionali il ritorno da Tonetti proprio perché stavamo parlando un po' della situazione che andremo a vivere tutti noi nel periodo natalizio ma volevo un attimo focalizzarmi anche sull'aspetto economico di queste limitazioni come lei ha detto lei è sindaco di un comune di piccole dimensioni della Lomellina che ovviamente deve fare un po' anche i conti con questa pandemia la fanno i grandi comuni figuriamoci i comuni piccoli sicuramente chi in questo periodo sta subendo più danni sono le ristorazioni il abbiamo appunto dei ristoranti dei pub delle pizzerie presenti sul territorio comunale che davvero sono provati da questa situazione ci sono poi i bar ci sono anche altri esercizi che sono stati chiusi e che adesso probabilmente vedranno ancora la chiusura come abbigliamento come altri negozi di questo tipo per cui è una crisi che ha portato ha portato per quanto riguarda gli esercizi commerciali e attività produttive del paese a una perdita notevole se non e oltretutto anche molte persone che sono rimaste in cassa integrazione altre che comunque hanno avuto problemi lavorativi perché autonomi perché privati quindi hanno avuto un calo di lavoro generale per questi motivi il comune grazie agli aiuti che sono arrivati dallo Stato sono circa 10.000 euro per il comune di Candia abbiamo emesso un bando per tutte queste persone che hanno appunto avuto una perdita economica e riceveranno un buono un buono spesa proprio per far fronte alle esigenze primarie di questo tipo mentre per quel che riguarda le attività produttive come sappiamo c'è il piano ristori che provvederà si spera il più possibile a dar sollievo economico a queste attività e così lei ha avvertito quel cortocircuito di cui parlavamo prima di andare in pausa pubblicitaria con l'esponente del Partito Democratico Milena d'Imperio tra Regione e Stato Centrale lo dico in qualità di primo cittadino insomma si è reso conto di un cortocircuito oppure è tutto filato liscio? non saprei rispondere precisamente a questa domanda non ho gli elementi per poterlo fare però sicuramente si capisce che stride un po' il dialogo fra alcune regioni è stato centrale non non riuscirei a individuare bene la problematica però che ci sia qualcosa che non funzioni quello è che penso che anche senza essere sindaco qualunque cittadino lo percepisca Milena d'Imperio ritorno ritorno da lei parlavamo un attimo anche di ristori come ha accennato il sindaco Tonetti una boccata d'ossigeno per per molti per tanti altri soprattutto l'opposizione ha criticato apertamente questi aiuti definendoli un banalissimo pagliativo ma allora dipende da quale opposizione e in che contesto perché ci sono stati ristori statali statali e analogamente sulle medesime categorie ristori regionali apprezzabili entrambi e doverosi entrambi quindi bisogna sempre un po' capire quando si è opposizione quando si è il governo quando si vuole essere un'istituzione quindi ricoprire un incarico istituzionale e invece dire tutto il contrario di tutto io credo che fare polemica fine a se stessa di fronte a questi temi molto seri lasci un po' il tempo che trova ecco certo ecco infatti insomma l'ha gestita bene la palla in questo momento Milena d'Imperio perché in effetti la domanda era più sulla sulla situazione sulla situazione a livello a livello nazionale ovviamente sul tavolo del governo poi ci sono altre eh situazioni molto importanti dal dal mess al recovery plan eh c'è anche questa prova questa verifica c'è stata nella settimana scorsa questa verifica di stabilità di questo governo insomma che comunque eh ha perso delle pedine oppure comunque ha delle ha delle ha delle spine nel fianco modello modello Italia Viva ecco lei come come vede questa situazione? eh una di quelle che dice insomma queste queste polemiche lasciano il tempo che trovano o qualcuno ha bisogno di visibilità oppure c'è la necessità di rivedere qualcosa l'Imperio mi sente? che diceva che io vi sento benissimo prego perfetto allora stavo ricordando il famoso titolo gli esami non finiscono mai e neanche le verifiche e mi sembra che siamo ancora in una in una situazione di verifica se le devo dire la verità da cittadina non ho proprio ben capito quali siano le istanze di chi ha sollevato le questioni ehm però dal mio osservatorio le posso dire che sicuramente ehm il recovery fund i progetti relativi quindi a next generation ehm gestiti eh da una eh governance fatta principalmente da funzionari ministeriali francamente non mi dà affidamento e e quindi io auspico che si trovi realmente la capacità persone persone o perlomeno non sono solo persone che fanno parte delle pubbliche amministrazioni ma c'è un mondo imprenditoriale un mondo di talenti un mondo di aziende che ha saputo affrontare questa pandemia con successo e di cui noi abbiamo bisogno ehm e obiettivamente ecco bisogna un attimo uscire da quello che è stato fatto finora avere coraggio e non continuare sempre a coprirsi con i soliti nomi perché in questo paese sembra che di manager o di capacità ci siano soltanto due o tre persone uno è Draghi l'altro è Caio e insomma c'è ben dell'altro quindi io auspico che prima di tutto il mio partito ma sicuramente anche gli altri partiti che fanno parte del governo e non solo anche chi fa parte dell'opposizione responsabile non del un giorno dice una cosa e un giorno ne dice un'altra riescano a tirar fuori questi talenti perché questo è quello di cui noi abbiamo bisogno da qui partirà la nuova Italia ci saranno delle riforme strutturali ci sarà un contesto di innovazione da cui non si può tornare indietro ma bisogna andare avanti sì come vede questa situazione anche da primo cittadino c'è il discorso che si paventano ipoteticamente anche delle elezioni perché la parola è questa che circola oppure è giustamente come dice Milena d'Imperio bisogna unire le forze i cervelli migliori devono lavorare che non devono essere sempre i soliti anzi più delle volte i soliti non sono i cervelli migliori ce ne sono tanti altri in giro bisogna farli lavorare perché l'obiettivo comune è tra virgolette la salvezza di un paese che comunque come tanti altri sta soffrendo sì credo di ripetere un po' il pensiero di d'Imperio che comunque sia i tecnici non possono sopperire a tutto credo che la politica la politica seria debba comunque riprendere il proprio ruolo e fare quello che i cittadini si aspettano dalla politica non possiamo demandare ad altri i ruoli che noi ci siamo assunti credo che il governo debba poter lavorare in modo serio puntuale e con l'appoggio eventualmente anche di tutte le forze che possono aiutare a superare questo momento drammatico le elezioni dal mio punto di vista sarebbero un ulteriore problema un problema nel problema perché andare a affrontare elezioni in un momento come questo oltre all'aggravio di spesa porterebbe un ulteriore anche problema dal punto di vista proprio della gestione dello Stato poi non sono autorevole io come analista da questo punto di vista però mi sembra anche un po' a volte pretestuoso l'atteggiamento di Italia Viva su alcuni argomenti mi sembra un po' che voglia davvero come diceva il direttore cercare degli spazi nonostante la piccola quota che ha dal punto di vista elettorale condividere di imperio insomma visibilità cercano gli esponenti di Italia Viva perché poi tutto si gioca lì insomma il discorso che Renzi ha usato il termine più volte che vogliamo sederci al tavolo di questa contrattazione soprattutto per definire questo piano che l'Europa dovrebbe finanziare ecco invece come vede da esponente del Partito Democratico il ruolo anche di Forza Italia in questo contesto ma che ha teso la mano alla maggioranza soprattutto perché ha chiesto una un'opposizione responsabile soprattutto chiedo la mano a quelli che fanno parte del mio campo politico e sono un po' tutti alla ricerca di visibilità forse qualcuno ha perso di vista qual è l'obiettivo e l'obiettivo non è solo ricostruire un un paese ma rinventarlo rinnovarlo e fare ciò che non si è avuto il coraggio di fare in passato grazie a queste risorse che l'Europa ha messo a disposizione che comunque in parte sono anche risorse nostre e dopodiché quando c'è una grande crisi è normale rivolgersi anche a chi ha idee e toni pacati e ha ben presente che al primo posto per chi fa politica c'è la buona politica e quindi c'è l'interesse dei cittadini e del paese questo questo sicuramente non dobbiamo pensare che nuove elezioni possano fare bene all'economia di questo paese che peraltro tra mille difficoltà sta ripartendo per cui chi impaventa nuove elezioni secondo me è totalmente irresponsabile e da ogni punto di vista e chiunque lo dica questo non è il momento di pensare a delle elezioni questo è il momento di capire di che cosa gli italiani hanno bisogno Sì d'accordo voltiamo un attimo pagina lasciamo lì l'aspetto economico e anche politico di questa pandemia e guardiamo avanti e parliamo di vaccini insomma oggi l'Europa ha dato il via libera fortunatamente all'utilizzo di uno dei tanti vaccini quello della Pfizer che stanno circolando pare così stavo leggendo sulle prime pagine dei principali quotidiani online che i primi ad essere vaccinati potrebbero essere anche persone già alla vigilia di Natale quindi dopo domani tra virgolette fortunatamente però poi arriva la notizia dall'Inghilterra di questa nuova variante insomma per gli esperti insomma è una situazione quasi normale noi parlavamo anche oggi all'interno dei nostri notiziari poi troverete alcuni servizi in merito insomma si dice normale che il vaccino muti ecco però al di là dell'aspetto sanitario di cui non voglio neanche entrarci perché presumo che le competenze le lasciamo ad altri volevo parlare anche un po' della gestione dei vaccini perché poi anche lì sarà una problematica cioè dovremmo essere trovare un paese pronto a gestire questa questa vaccinazione tra virgolette di massa allora Candia come credo che sia emerso in più sedi dal punto di vista proprio della comunicazione è stato uno dei comuni che ha promosso i test rapidi a Candia si sono si è eseguito questo tipo di test rapido il giorno 12 di dicembre di questo mese per cui credo che potremmo far fronte anche a livello locale sempre organizzandoci con la stessa struttura con la quale ci siamo organizzati proprio per questi test rapidi a far fronte anche a dei vaccini di massa del territorio quindi del nostro comune come anche dei comuni limitrofi io anche se sono un fifone del lago appena avrò la possibilità farò il vaccino questo sicuramente e spero che che arrivi questo momento il prima possibile spero davvero che questa variante come sentivo in tele alla radio mentre venivo qui in studio non dovrebbe inficiare sul vaccino per cui andiamo tranquilli lo speriamo lo speriamo tutti abbiamo ancora un due minuti di imperio vengo da lei proprio su questa questione io innanzitutto sono d'accordo col sindaco credo che i sindaci non so se gli faccio un favore a dire questa cosa o no ma i sindaci hanno dimostrato grande senso di responsabilità grande conoscenza del proprio territorio e soprattutto hanno la fiducia dei propri cittadini per cui credo che in un piano vaccinale di massa non si possa prescindere dal coinvolgimento diretto dei sindaci ecco mentre a livello generale l'Italia sarà pronta perché insomma si parlava che ci vogliono dei frigoriferi a posto ci vuole una gestione del prodotto ottimale insomma ci sono ovviamente delle necessità impellenti ecco secondo lei l'Italia è pronta a sostenere un'impresa del genere perché è davvero un'impresa abbiamo già visto quanto è successo in questi mesi anche non solo in regione Lombardia ma anche in altre realtà per quanto riguarda i vaccini invernali a mettersi in fila con ordine a rispettare le priorità a capire chi ha diritto ad essere il primo e chi invece deve aspettare e soprattutto a capire che quando inizieranno le vaccinazioni ci sarà ancora un lungo percorso di regole da seguire per chi non è vaccinato quindi l'Italia non è un'entità diversa dai cittadini italiani se mi chiede i sindaci sono pronti secondo me sì i medici e gli infermieri sono pronti sì grande e massima fiducia gli italiani sono pronti questo non lo so dipende da ognuno di noi siamo arrivati alla fine di questa puntata ringrazio davvero di cuore in collegamento Milena d'Imperio del Partito Democratico ringrazio in studio il sindaco di Candia Stefano Tonetti vi lascio ai nostri notiziari rispetto a quanto vi dicevo all'inizio saranno in edizione l'unica Milano e Pavia fino al prossimo 4 gennaio prossimo quindi ora vi lascio in compagnia del nostro telegiornale e vi do l'appuntamento a domani sempre alle 18 con Linea Attualità a domani che